Prima vittoria stagionale per il Prato che nella settima giornata del campionato di Serie D supera per 2-1 la Pianese. Una vittoria maturata grazie ad un avvio davvero sprint dei Lanieri. Per noi era molto importante riuscire a capire che dobbiamo fare un percorso fatto di lavoro. Siamo stati insieme una settimana e sappiamo che c'è da lavorare molto. Questa vittoria contro una squadra forte ci aiuta a guardarci dentro e a capire che dobbiamo lavorare ma ce lo fa fare più serenamente. Il Prato avvia con il turbo. Del Sante imbecca a Coassi che riesce a beffare la difesa senese con un comodo tocco sotto misura. Il vantaggio mette le ali al Prato che al settimo raddoppia direttamente su calcio d'angolo con Tomi. Super goal e replay più che meritato. La Pianese cerca di reagire. Benedetti ha la palla buona ma Brunelli è superlativo in uscita. Replica della Prato con il sinistro tutto dinamite di Tomi. Il portiere avversario disinnesca. Nell'ultima azione del primo tempo la Pianese accorcia le distanze. Benedetti disegna questa parabola. La difesa laniera si addormenta e Simeoni spinge il pallone in fondo al sacco. È 2-1. Quando si sbaglia si paga perché siamo partiti male. Abbiamo preso due gol assurdi. Assurdi per letture sbagliate e forse anche sufficienza in alcuni casi e poi diventa difficile. Abbiamo anche reagito bene ma non sempre. Poi obiettivamente credo che il pareggio ci stava tutto. Nella ripresa la partita è davvero viva. Rozzi riscalda i guantoni al portiere senese mentre la traversa salva il Prato sul colpo di testa preciso di Bianchi. Ancora pericolosa la squadra di Marco Masi con il addesto di Buongiorno fuori di poco. Il Prato potrebbe chiudere i conti con Rozzi che mette alto un suggerimento con il contagiri di Bazzoffia. L'ultimo brivido proprio nel tempo di recupero. Gol della Pianese con Buongiorno annullato dall'arbitro per fuori gioco. La Pianese è furiosa mentre il Prato può esultare per la prima vittoria stagionale e mercoledì si torna in campo per il turno infasettimanale. Prato impegnato nella trasferta di Gavorrano. Non c'è un attimo di tregua.